presso il Santuario del Santissimo Salvatore, dove domani alle ore 20 il Vescovo Monsignor Luigi Manzi celebrerà una messa in memoria di Padre Civerra, deceduto la scorsa settimana. I dettagli nel servizio. Domani, mercoledì 28 settembre, alle ore 20, presso il Santuario del Santissimo Salvatore di Andria, Monsignor Luigi Manzi concelebrerà una messa in memoria del Deoniano Padre Civerra, deceduto la scorsa settimana. Con questa celebrazione la diocesi di Andria e tutta la comunità cittadina si stringeranno virtualmente attorno a questa figura che ha contribuito a scrivere la storia del territorio. Chiaramente, Tele Deon trasmetterà in diretta la Santa Messa, trasmissione preceduta da alcune interviste che abbiamo realizzato in occasione dei funerali del sacerdote a Castiglione dei Pepoli, sua città natale, lo scorso 23 settembre.